Oggi è il primo novembre. 1993. Entra in vigore il Trattato di Mastri. 2006. Londra. Avvelenato Alexander Litvinenko, ex colonnello KGB. 1954. Algeria. Scoppia la rivolta contro la Francia coloniale. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Oggi ricordiamo la nascita di Mario Rigoni Stern, il sergente nella niente. Grazie a tutti.